Il treno Intercity 7-3-1, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Palermo Centrale, delle ore 9.50, e in arrivo al binario 16. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Salerno, Sapri, Paola, La Mezzia Terme Centrale, Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Messina Centrale, Milazzo, Barcellona, Patti San Piero Patti, Capo d'Orlando Naso, Sant'Agata Militello, Santo Stefano di Camastra, Cefalu, Termini Marese.